C'è qualcosa di inquietante, l'avete vista ieri o oggi sui giornali, c'è qualcosa di inquietante in quella foto di Fabio Fazio, del suo Che Tempo Che Fa, una foto di bambini e carabinieri senza un bambino. E' una foto inquietante perché ovviamente vogliamo bene a Rami, l'eroe dell'autobus di Milano, vogliamo sicuramente bene a Adam, il suo amichetto dell'aiutato, ma io sinceramente non capisco perché in questa foto di gruppo non ci sia Riccardo, il bambino italiano che era con Rami, Adam e tutti i suoi compagni su quell'autobus e che al pari di Rami, di Adam e di tutti gli altri ha collaborato a quella straordinaria impresa che ha permesso ai bambini di liberarsi dal loro sequestratore. Allora siccome a me non piacciono i cattivisti a tutti i costi e siccome, lo dico subito, io sono per dare la cittadinanza a Rami, a suo padre, a sua madre, a chiunque abiti in Italia, paghi le tasse sia su questo territorio e siccome non mi piacciono i cattivisti ad ogni costo che vogliono sempre cercare l'immigrato cattivo, non mi piacciono e detesto ancora di più i buonisti ad ogni costo che sempre devono cercare l'immigrato buono, il buon selvaggio, ottimo per le chiacchiere nel salotto radical chic. In questo caso cercare il buonismo melenza ipocrita significa sgarzinare, cancellare, abbradere la presenza di Riccardo che era nel terzetto dei salvatori perché è molto più bello avere due bambini extracomunitari e trasformarli in un vessillo. Ma in un vessillo di cosa? Il buonismo non è una merce spendibile, non è una merce efficace e soprattutto è una falsificazione. Allora devo dire che la foto di questi bambini da Fazio e il loro utilizzo sui giornali mi ricordo un po' le foto storiche della rivoluzione bolscevica dove prima c'era il compagno Lenin e tutti i rivoluzionari poi quando si mettono al lavoro i photoshopisti antelitteram del compagno Stalin prima scompare Bukharin, poi scompare Zhukov e poi scompaiono tutti e alla fine restano solo il compagno Lenin e il compagno Stalin. Ecco voglio dire che siccome sono padre di un 12-13enne siccome faccio parte di quella generazione di genitori che si interroga sui loro figli tossicodipendenti che giocano sempre a Fortnite, che faticano a leggere e si chiede cosa faranno nella vita per me questo gesto di Milano è la grande prova che questi ragazzi possono fare grandissime cose che non sono dei maniaci dei videogames, che usano la testa, il cervello, che vanno lontano, che conoscono che sanno uscire dalle trappole della modernità ma allora per piacere non cancellate questi bambini non sostituite il buonismo melenza ipocrita al cattivismo stupido e ottuso teneteli tutti insieme perché questa è una bella bandiera di un'intera generazione della generazione 2000 e non può essere il santino di qualche radica chic fesso grazie grazie grazie